Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e gli interventi normativi collegati. Gli atti integrati con un maxi emendamento presentato dal Presidente Eugenio Gianni hanno visto il voto favorevole di PD e Italia Viva. Le opposizioni hanno votato contro. Siamo in variazione di bilancio, l'ultima variazione di bilancio prima della fine dell'anno. Quindi a fronte di vari consiglieri di maggioranza, di opposizione, che mi chiedevano di intervenire convertendo risorse che avevano la loro destinazione già prevista da tempo, abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura. Uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal Fondo di Solidarietà che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in inginere, quello di previsione 2024 che abbiamo portato l'endita in giunta e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Per noi questa variazione di bilancio è importante anche per dare un primo segnale forte, importante a chi sta soffrendo, alle imprese alluvionate, alle famiglie che hanno perso la propria casa. In questa variazione di bilancio noi decidiamo di destinare 6 milioni di euro a fondo perduto alle famiglie, 6 alle imprese, 7 milioni alle imprese agricole e facciamo accesso, io l'ho chiesto da subito, subito nei primi giorni dell'alluvione al Fondo di Solidarietà Europeo per 50 milioni di euro. La stessa richiesta, la stessa osservazione porterò al Comitato delle Regioni della prossima settimana a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane. D'altro canto però facciamo un appello anche al Governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. È la terza ed ultima variazione e come ogni anno qui ci sono risorse importanti da destinare a capitoli che erano scoperti, che riguardano la cultura, che riguardano il sociale, che riguardano alcuni interventi puntuali. Per quanto riguarda invece i danni all'alluvione, con gli emendamenti che il Presidente Gianni ha presentato al documento di Economia e Finanza ci sono degli impegni precisi per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni residui del FESR, per quanto riguarda il fondo di sviluppo rurale, quindi per le imprese artigiane, industriali e per quanto riguarda le imprese agricole. C'è un impegno per quanto riguarda il ristoro anche dei danni subiti dai cittadini. Tutto questo è un impegno fissato nel documento di Economia e Finanza che troverà allocazione nel prossimo bilancio. Averlo messo ora sarebbe stato inutile perché non ci sono modalità e leggi che consentano la distribuzione e l'attribuzione. Quindi sarebbe solo stato un modo, quello richiesto dall'opposizione, per togliere risorse da dove servono e dove possono essere spese per metterle in frigorifero. Invece l'impegno dei 25 milioni c'è, è chiaro e con il bilancio troveranno anche risorse da distribuire. Una variazione di bilancio che Tel Aviva ha sostenuto con convinzione, un equilibrio dei conti che è fondamentale, mette in sicurezza i conti del 2023, soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità, nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi, mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati. Quindi una variazione di bilancio importante, un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia d'Italia viva di tenere i conti in equilibrio della regione toscana si può fare senza aumentare le tasse. Il 2023 quindi si conclude con un anno che per la terza volta consecutiva porta i conti in equilibrio di bilancio, soprattutto senza chiedere nessun sacrificio a cittadini toscani. Siamo rimasti assolutamente sorpresi che non ci sia stata la disponibilità a ridiscutere la variazione almeno in alcuni punti che potevano essere secondo noi rimodulati anche e soprattutto in relazione a quello che è successo il 2 di novembre. Una risposta concreta, credo che i cittadini se l'aspettassero immediatamente. Come gruppo di Fratelli d'Italia abbiamo provato, stiamo provando a cercare di mettere subito sul campo delle risorse importanti che possano dare una prima risposta davvero a chi oggi è in estrema difficoltà, cittadini ed imprese. Ciò che sorprende è che ci sia stata una sostanziale fermezza nel non voler ridiscutere la variazione. Aggiungo nel merito che è estremamente preoccupante come questa regione stia continuando a fare un ricorso al debito, all'indebitamento in modo assolutamente importante. Ho sottolineato come noi non solo siamo ad oggi assolutamente al di fuori di una qualsiasi programmazione organica, ma come questo massiccio utilizzo dell'indebitamento possa portare ad uno stress effettivo dei conti pubblici della regione che possa poi in futuro davvero mettere a rischio anche quelli che possono essere interventi sicuramente meritevoli, penso al tema dell'edilizia scolastica, ma che non possiamo continuare a finanziare in modo assolutamente disorganico e a macchia di leopardo. L'occasione della variazione del bilancio ci ha dato l'opportunità anche questa mattina da parte mia di ritornare su un tema fondamentale che inevitabilmente tocca il passaggio del bilancio che è quello legato all'alluvione, alle conseguenze dell'alluvione per famiglie ed imprese su tutta la Toscana. Regna sovrana una confusione che non capisco ancora se è reale o se è voluta, ma rispetto alla quale ho cercato di fare per l'ennesima volta chiarezza, e cioè che sussiste una differenza fra quella che è la normativa nazionale riguardante lo stato di emergenza nazionale, che peraltro ad oggi riguarda esclusivamente 5 province, seppur siamo in attesa che venga allargato anche alle province di Lucca e di Massa, come sostanzialmente avanzato un po' a più riprese da parte di tutti, rispetto a quella che è lo stato di emergenza regionale, regolato dalla legge regionale 45-2020, che è stato firmato da parte del Presidente Gianni il 2 di novembre e esteso all'intero territorio regionale, e per le quali quella normativa all'articolo 24 prevede la possibilità di attingere risorse dal bilancio. E questo è possibile farlo, come la Lega anche in queste ore sta predisponendo atti a sostegno di questa linea, è possibile farlo mettendo mano almeno parzialmente anche a questa terza variazione di bilancio, dove ci sono poste che probabilmente non hanno certamente l'urgenza di chi ha ricevuto i danni dall'alluvione, e anche attraverso quel fondo di riserva di bilancio, dove la Lega, come ha formalizzato nei propri atti, ha individuato risorse importanti per poter intervenire subito a sostegno di chi ha ricevuto danni, e quindi la smetta al Presidente Gianni di fare esclusivamente riferimento all'ordinanza 1037 dello stato di emergenza nazionale, che è importante, e che anche noi accanto a Gianni saremo a sollecitare che arrivino risorse da Roma le più possibili, visto l'ingenza dei danni. Però il Presidente Gianni faccia al Presidente della Regione e dia seguito a quel decreto che ha firmato mettendo a disposizione dei Toscani, di tutti i Toscani, e dia risorse economiche come è ampiamente previsto, evitando quella distribuzione a pioggia che abbiamo visto anche attraverso questa variazione di bilancio, che potrebbe essere in buona parte, potrebbe essere rimandata successivamente per cercare di invece intervenire per quelle famiglie di imprese e attività che hanno ricevuto danni. Quarta edizione del Premio Architettura Toscana, presentato a Palazzo del Pegaso e dedicato ad arte sociale e sostenibile proiettata nel futuro. La prima azione avverrà il 13 giugno 2024, alla Palazzina Reale di Piazza Stazione a Firenze, dove sarà allestita la mostra dei progetti vincitori. La presentazione è stata introdotta dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Noi abbiamo voluto fortemente questo premio nella scorsa legislatura, questa è la quarta edizione ed è un modo per raccontare il nostro presente, ma anche avere la capacità di guardare al futuro, avere la capacità di saper disegnare il nostro territorio, nelle forme moderne, ma anche apprezzando quello che è la storia, l'arte, la cultura, la bellezza della Toscana, sta alla base dello spirito di questa iniziativa. Presenti la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi, Lorenzo Ricciarelli, in rappresentanza della Federazione Architetti della Toscana, il Presidente del Comitato Organizzatore, Tommaso Barni, Vincenzo Di Nardo, Vice Presidente di Ance Toscana, e Andrea Cruciani, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze. È senz'altro un momento, prima cosa, per sottolineare un lavoro fantastico che si fa e il lavoro anche sotto traccia che gli architetti fanno nel pensare lo spazio che poi tutti abitiamo o comunque che tutti vediamo anche quando si tratta di spazi privati. Una funzione che gli addetti ai lavori conoscono bene, i decisori politici conoscono bene, ma che l'occasione del premio consente di raccontare anche a un pubblico più ampio. Ma la prospettiva per la federazione e per tutto il gruppo di lavoro di questo premio Architettura Toscana è quello di veicolare il messaggio per cui l'architettura, ma in particolar modo il progetto di architettura, in tutta la sua complessità, è il volano imprescindibile, irrinunciabile, esemplare, per favorire meccanismi di rigenerazione, di riqualificazione territoriale e paesaggistica complessivi che possano valorizzare il territorio regionale in primo luogo, ma poi per estendere questo concetto a tutto il territorio nazionale. Quello che noi facciamo è non scegliere i progetti, i progetti partecipano liberamente e noi scegliamo una giuria, una giuria che poi valuta questi progetti e come per tutti i premi la giuria è l'elemento fondamentale che dà la credibilità al premio. La giuria di quest'anno, come del resto degli anni scorsi, sono delle giurie di grandissimo livello. Noi crediamo che il concorso di idee, il concorso di progettazione sia uno strumento molto valido per poter intervenire nelle nostre città, per evitare che ci siano progetti non ponderati in concorrenza, in confronto con gli altri. Quindi è uno strumento molto valido. Anzi, confidiamo che questo strumento sia sempre più applicato e confidiamo anche che sia parallelamente coniugato insieme anche al valore della tecnologia che si usano, perché oggi non possiamo non prescindere dalle tecnologie per un problema ambientale, per un problema acustico e anche dal costo e dal valore dell'immobile. Io vorrei puntualizzare che forse più che l'aspetto del premio che contiene in sé un'accezione di competizione, trova interessante il confronto, quindi l'occasione che viene data tramite questo premio di confrontarsi, quindi fra i vari architetti o altri progettisti che lavorano in Toscana, di poter mettere a confronto le proprie idee, i propri progetti, spesso anche su temi simili, quindi vedendo come lo stesso tema viene declinato in maniera diversa a seconda delle varie impostazioni progettuali. Un ricco programma di iniziative dedicato al Pozzo dei Lavatoi a 50 anni dalla sua scoperta. Il Pozzo dei Lavatoi, scoperto a Montelupo Fiorentino 50 anni fa, veniva utilizzato come discarica dalle fornaci medievali e rinascimentali attive in prossimità del castello. Negli anni si è rivelato una fonte eccezionale di reperti, il cui studio ha riportato alla luce una storia rimasta sepolta per secoli. Il programma di iniziative è stato presentato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e illustrato da Aglaia Viviani, assessora alla cultura del comune di Montelupo e Luigi Olivieri, presidente della fondazione Museo Montelupo. La storia della scoperta è stata ripercorsa da Alessio Ferrari, uno dei volontari che scavarono il Pozzo. È una festa, una festa bella, 50 anni da una scoperta che ha cambiato la vita di Montelupo. È un vero e proprio vaso di Pandora, se noi vogliamo usare le metafore. È un modo per tirar fuori, dopo anni di difficoltà, la storia di una comunità, le maioliche rinascimentali più belle del nostro paese. È un luogo di arte, di storia, di cultura, di bellezza. E tante saranno le iniziative, le iniziative di memoria per ricordare quello che è stato, ma anche per guardare avanti, con i più giovani, con le scuole, momenti culturali importanti. Insomma, una grande festa per la comunità di Montelupo. 50 anni dalla scoperta, ma i numeri da dare sarebbero moltissimi. Quello in questo momento che ci preme di più sono i 32 metri di scavo del Pozzo dei Labatoi che raccontano appunto la storia di Montelupo. Questa scoperta ha una duplice valenza. Da un lato la valenza artistica, perché sono venuti fuori manufatti vecchi di due secoli, dal 1300 al 1500, che hanno raccontato non solo l'arte di Montelupo, ma anche la storia di Montelupo ai cittadini che ancora non la conoscevano. Dall'altro lato anche una forte valenza sociale, perché nel momento nel quale fu scoperto il Pozzo dei Labatoi ci fu una scoperta collettiva e una chiamata collettiva allo scavo del Pozzo che poi fu sistematizzata ovviamente tramite la sovrintendenza. Io vorrei anche contestualizzare quella scoperta e ricordare che il periodo in cui fu trovato il Pozzo e soprattutto fu iniziato lo scavo è alla fine del momento più importante dello sviluppo economico del settore della ceramica del dopoguerra. Noi si usciva appunto dagli anni della guerra e lo sviluppo delle manifatture, soprattutto della ceramica, del vetro, delle confezioni, delle scarpe, a Montelupo avevano preso piede. La ceramica era forse il settore trainante. Lo scavare il Pozzo è stato, diciamo, dal mio punto di vista emozionante, intanto perché ho cominciato, che avevo 16 anni, per cui un po' di tempo fa, ed è stato, diciamo, bello perché ha dato la possibilità a noi giovani, insomma, che ci sentivamo, insomma, a quei tempi un po' Indiana Jones, di fare gli archeologi sul serio, insomma. Scavare il Pozzo dell'Avatoio, tra l'altro, era, diciamo, un'emozione continua perché sul fondo venivano sempre fuori appunto dei pezzi di ceramica, dei cocci, come si diceva, colorati, molto belli, per cui, pieni però di fango, perché in fondo erano mischiate alla terra, e era un'emozione grande anche quando le caldarelle, piene di questi reperti, insomma, arrivavano su in alto e venivano lavati, perché lì, con un po' d'acqua, si riusciva a vedere in effetti quello che avevamo trovato.